Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale! Finalmente riesco a girare questo video tutorial che da tempo ho intenzione di fare ma non riesco a trovare veramente il tempo per farlo e allora oggi ho deciso di dedicarmici un attimino e insomma creare questo video avevo già pubblicato diverso tempo fa nella mia paginetta facebook che nell'info box metterò il link per accedere direttamente e ho creato questi orecchini di facile esecuzione quindi anche per i principianti non è difficile come potete vedere l'orecchino gli ho chiamati web perché mi è uscita questa sorta di rete e quindi mi è piaciuto questo nome conciso anche perché il significato è rete quindi mi piaceva questa cosa ecco qui questi sono i miei primissimi web che ho postato le foto ecco forse in questa luce si vede meglio sono veramente belli mi sono piaciuti molto anche nell'accostamento che ho utilizzato e questo rosato con questo questo marrone questo brown opaco bellissimo e poi ho spezzato con queste rocaille 8.0 in arancione rivoli come potete vedere riprende un po' con le 15.0 il stesso colore veramente belli addosso fanno una bella figura ed ecco l'oggetto del tutorial di quest'oggi questi sono l'oggetto del tutorial di quest'oggi in questo colore e come potete vedere da tempo volevo farmi qualcosa di blu perché necessito io non ho più orecchini blu allora me li sono creati in questo modulo e ho voluto spezzare con il rosso perché vedete anche la maglietta che porto oggi insomma ha questi colori diciamo mi sono ispirata anche a questa maglia che oggi indosso e niente guardate che bella luce se becco la luce buona si vede proprio veramente bello l'orecchino sì sono di parte come sempre quindi niente allora vi lascio all'elenco dei materiali al video tutorial vi raccomando come sempre vi chiedo di mettere pollice in su se il video è di vostro gradimento condividete con i vostri amici e soprattutto se non ancora lo fate iscrivetevi al mio canale grazie e buona visione ciao bene ora vi farò l'elenco dei materiali che serviranno per il progetto di quest'oggi allora per incastonare il rivoli allora innanzitutto ci vorrà un rivoli da 14 mm questi li ho acquistati da Tinting sono fantastici li ho vinti a una siccome Tinting è un rivenditore ebay della Cina e se volete vi metto il link per chi ancora non lo conoscesse li ho vinti ad un'asta hanno questo colore spettacolare tra il vitral con il color limone insomma fa dei riflessi veramente molto belli vedete? riuscite a vederli con lilla, rosa, giallo insomma fa veramente un bel effetto quindi per l'incastonatura utilizzerò delle Super Duo che sono di questo colore Pastel Petrol questi li ho acquistati da Cadoro poi utilizzerò solo per l'incastonatura questi queste Rocaille della stessa colorazione Calc Lava Red sia 8.0 che 11.0 sempre da Cadoro poi utilizzerò le Duracote Galvanize Zest questa colorazione gialla veramente molto bello questo colore lo sto utilizzando parecchio della Miyuki però quindi sono delle 15.0 della Miyuki che adoro anche questi olivine 6x4 queste belle olivine che sto utilizzando nei miei vari progetti quindi olivine per fare l'ultimo pezzo quindi ovviamente facoltativo perché per chi volesse solo la prima parte può anche non utilizzare le olivine io per rendere un po' più particolare l'orecchino ho fatto questa aggiunta finale che poi vedrete nel tutorial poi sempre da Tinting biconi da 4 mm scusatemi 3 mm e anche questi ultimamente il rivenditore ha messo in commercio prima non li aveva e quindi ne ho fatti ne ho ordinati diversi colori quindi sto trovando il modo per utilizzarli al meglio mi piacciono molto in questo color gold poi le rocaille che utilizzerò per quasi tutto il lavoro sono questi sempre della Cadoro Metallic e Matite dal pacco da 100 grammi e questi sono delle 11.0 quindi vi raccomando utilizzate le Toho per questo progetto perché sono altrimenti è probabile che non vi ridà l'unica cosa che ho utilizzato Miuki sono queste 15.0 per fare questa filigrana interna insomma questo contrasto e vi raccomando utilizzate anche voi delle Miuki perché sono leggermente più piccole delle Toho quindi potrebbe non ridarvi il lavoro quindi per questo vi consiglio sempre di utilizzare le stesse pietre che vi indico filo di nylon 16 mm caperlan acquistato da Decathlon costa 2 euro e qualcosa diciamo che sono molto legata al suffix ma non essendoci più non l'ho trovato l'ultima volta e allora ho acquistato questo quindi al momento sto utilizzando questo e mi piace solo per i lavori con pietre chiare in modo che non si vede il filo però per il resto devo dire che preferisco il suffix perché è molto più resistente e ho notato questo filo che anche per incastonare devo fare veramente molti giri per poter stringere bene il lavoro quindi a volte devo passare e ripassare nel lavoro e insomma un po' così comunque non è male economico niente male è ago tulip da 11 questo è il materiale per gli orecchini web e adesso passiamo al video tutorial bene partiamo da un incastonatura fatta con le super duo e poi dei picot inseriti tra le 8.0 tra l'8.0 e l'altra quindi tre rocaille 11.0 le inseriamo tra un 8.0 e l'altra quindi formiamo queste punte questi picot che vedete qui una volta fatto questo procedimento ci andremo ad inserire nella punta del picot da qui adesso dovremo inserire 4 rocaille 11.0 e ci andremo ad inserire nella punta del picot successivo in questo modo quindi 4 rocaille e lo facciamo per tutto il giro una volta terminato il giro ci posizioneremo invece nella rocaille centrale che adesso vi farò vedere terminiamo il giro e ci vediamo fra un secondo in questo modo ecco che andrò ad inserire le ultime 4 rocaille e mi porto senza inserire nulla nel lago nelle prime due rocaille del gruppo successivo che abbiamo appena finito di inserire quindi da qui andrò ad inserire una rocaille 15.0 e mi inserisco nelle prossime due e anche nella punta del picot in questo modo poi di nuovo risalgo nelle prime due e vado a formare questa puntina questa punta questa sorta di punta con la 15.0 di nuovo inserisco la 15.0 nel lago e mi inserisco nelle prossime tre rocaille e questo lo faccio per tutto il giro una volta inserita l'ultima rocaille 15.0 nella punta prima ma ci andremo ad inserire nella punta successiva quindi appunto ci posizioneremo nella rocaille da dove siamo partiti dall'ultimo gruppo quindi in questo modo usciamo quindi con l'ago e il filo da questa rocaille 15.0 e andremo ad inserire nell'ago due 15.0 un bicono da 3.0 e due 15.0 quindi questa questa sarà la sequenza e ci andremo ad inserire nella punta successiva della 15.0 in questo modo questo dovremo farlo per tutto il giro quindi di nuovo due 15.0 bicono da 3 mm due 15.0 e ci inseriamo nella punta della 15.0 successiva formiamo questo per tutto il giro eccoci nell'inserimento delle ultime perline e quindi ci troviamo a completare il giro qui insieme adesso dovremo inserirci senza mettere nulla nel filo nel lago ci inseriamo nelle due rocaille 15.0 bicono e altre due rocaille 15.0 ed usciamo metti a fuoco ecco qua usciamo in questo modo qui quindi dovremo andare ad inserire in questo spazietto una rocaille 15.0 quindi inseriamo una rocaille 15.0 qui e di nuovo risbucheremo in questo modo dall'altro lato quindi questo lo facciamo per tutto il giro quindi inseriamo una rocaille 15.0 in questo spazio e completiamolo per l'intero giro in questo modo inserisco l'ultima rocaille 15.0 del giro e mi troverò ad uscire in questo modo e mi vado ad inserire nella rocaille appunto che abbiamo iniziato a inserire nel giro precedente quindi mi troverò ad uscire con il filo nella punta della rocaille 15.0 che abbiamo appena inserito una volta che siamo qui dovremo inserire se rocaille 11.0 nel lago quindi se rocaille 11.0 ci inseriremo nella puntina della 15.0 successiva in questo modo e si andrà a formare questa sorta di archetto quindi di nuovo se rocaille li facciamo insieme 2.3 4.5 e se rocaille e di nuovo ci inseriremo nella punta della 15.0 tra i due biconi facciamo questo per tutto il giro ecco che sto inserendo le ultime 6 rocaille 11.0 del giro e mi troverò ad uscire con il filo da questa rocaille 15.0 di punta dopodiché mi andrò ad inserire nelle prime 3 rocaille 11.0 del giro che abbiamo appena terminato in questo modo quindi esco da qui e inserirò una 15.0 e di nuovo rientrerò nelle 3 rocaille successive 11.0 di nuovo andremo a formare queste punte in questo modo questo lo dovremmo fare per tutto il giro quindi di nuovo ne rifaccio un altro con voi inserisco sia qui che nelle 3 rocaille sempre se ce la farò sì in questo modo e inserirò di nuovo una 15.0 per poi rientrare nelle 3 successive ecco qua così andremo a formare queste punte facciamolo per tutto il giro terminato il giro ecco cosa ci troveremo e dovremo portarci ad uscire dalla punta appunto della rocaille 15.0 che abbiamo appena finito di inserire nel giro adesso nel lago si sente il mio cagnolino allora nel lago inserirò questa sequenza per formare questo un attimo vi faccio vedere per formare questo cappio particolare con le olivine quindi andremo ad inserire una 15.0 una 11.0 un'olivina una 11.0 una 15.0 e ci inseriamo nella punta successiva 15.0 che ci troviamo in questo modo questo lo dovremo fare per totale tre volte quindi 15.0 11.0 olivina 11.0 e 15.0 e ci inseriremo di nuovo nella punta successiva lo facciamo per l'ultima volta insieme dopodiché andremo a fare un giro a vuoto per rinforzare il lavoro quindi finiamo di fare questo ok e mi inserisco qui ecco qua adesso senza inserire nulla nel lago faremo tutto il giro intorno ci inseriremo in tutte le perline esterne per rinforzare il lavoro e ci troveremo ad uscire da no non ci troveremo ad uscire qui però ci vediamo fra un secondo dove vi farò vedere dove ci dovremo posizionare e più precisamente si dovremo uscire dall'olivina quindi usciremo dall'olivina con il filo completiamo il giro una precisazione che non ho fatto nel rinforzo finale mi andrò ad inserire solamente nelle 11.0 quindi salterò la 15.0 centrale quindi passerò solo nelle 11.0 in modo da rinforzare saltiamo anche la punta in modo da renderlo ancora più puntito quindi ripassiamo tutto il filo ripeto per l'ennesima scusatemi però preferisco ripeterlo e saltiamo le rocaille 15.0 e ci inseriamo solo nelle rocaille 11.0 facciamolo per tutto il giro ecco finito il giro di rinforzo mi troverò ad uscire come vi ho anticipato prima nella prima olivina in questo modo da qui andrò ad inserire nell'ago una rocaille 11.0 alternando quindi un'olivina rocaille 11.0 olivina rocaille 11.0 quindi questa sequenza dopodiché da qui dovrò inserire una super duo scusate che l'avevo rimesso a posto le tiro fuori subito dalla bustina quindi inserirò una super duo e 4 rocaille 11.0 1 2 3 e 4 una volta inserite queste 4 rocaille andrò ad inserirmi nell'altro foro della super duo quindi rientrerò nel foro della super duo in questo modo e di nuovo farò questa sequenza anche da questo lato 11.0 olivina 11.0 olivina 11.0 e mi vado e mi vado ad inserire nella terza olivina in questo modo ecco qua allora essendo il lavoro un po' molliccio però è terminato in questo modo non farò altro che di nuovo cercare di passare più volte in questo ultimo passaggio in modo da rinforzare il lavoro da renderlo rigido e con questo abbiamo terminato magari vi posso dare un ulteriore consiglio di passare all'interno dei biconi 15.0 che vedete qui prima dell'ultimo giro per rinforzare anche questo ulteriore giro io questa cosa la faccio perché con questo filo mi rendo conto che ho bisogno di rinforzare un po' di più però se voi vedete che il lavoro già è abbastanza rigido poi quello sta a voi valutarlo bene eccoci giunti al termine di questo video tutorial spero che questo mio progettino vi sia piaciuto e soprattutto di vedere tanti orecchini web nei vari gruppi facebook vi prego condivideteli con me perché mi fa veramente molto piacere piacere sono diventata un po' cinesina piacere e soprattutto mi stimola a proseguire anche se molte volte sono stanca non ho il tempo però comunque vedere che voi apprezzate i miei lavori e li riproducete mi stimola a proseguire quindi grazie grazie sempre dei vostri complimenti dei vostri apprezzamenti e niente vi saluto e nel caso in cui non riuscissi a fare un video prima di Pasqua vi faccio i miei migliori auguri ciao